Spero di riuscire a fare un ASMR dove mi tingerò i capelli, però ora vado a mettere questa Qua e qua, in modo così che io non andrò a macchiarmi anche se fanno i capelli, non succede niente Vado a metterlo qua Ah, che buona dietro? Ok, adesso c'è l'unima Per non cambiare se ne vai le guanti Le mani di guanti sono un po' grandi Spero di rimuovere di sottofondo che ci saranno, saranno mio stomaco o mia madre che parla Spero di rimuovere di sottofondo che ci saranno Anche per l'unima Ma ora dimenticare qui ci saranno E' un po' di riuscire in giallo 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 perchè io ho i capelli bianchi quindi devo partire dalla radice ora inizierò a preparare la pochettone usando questa qua che è una tinta che è il 9.66 ho preso il topo intero perchè ne ho già una metà però per tutti questi capelli non basta male per farmi un colore totale per coprire anche questa cosa qua che è troppo 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 chiara che adesso vuole avere che in video è molto accesa per me è molto spiatita andiamo a prendere questo topicino e andiamo a girarlo e poi visto che è sigillato lo facciamo così si fa così in modo che è il fico poi prendiamo la nostra giudolino e andiamo a mettere il prodotto io lo metto tutto per sicurezza il prodotto è molto buono non so se non vedrete ma troppo i bagni piccoli no? adesso questo colore è ben libera è ben buca sai che qua si è buca ora ti sa qua nei guanti enormi che sono spagnati? andiamo a prendere il pennello è la pop it pop ok adesso così e ci andiamo a allora facciamo un po' la volta perchè in base a come viene la miscela ci sono solo 40 volumi e stiamo diventando un bagliaccio e ci siamo allci li ho messo con tirocco mi viene diventando un po' denso ma non poco gleichherà un po' liquida una bella delle piccole quatte in questo caso non lo scuque è un po' liquida perché voglio ok? mi ingeriamo i posti forse è troppo liquido però adesso cosa vuole? potremmo andare bene non cosa vuoi la consistenza che ho andiamo a prendere il mio balsamo andiamo qua c'è una fai per togliere la tinta in eccesso per pulire il pennello io apponderò sulla parte iniziale perchè appunto fa veramente schifo si è schizzata la tinta sul braccio molto bene infatti sta diventando rossa poi non la vedete mai così ma chiaro tutta la maniera la so già spero che questo mio ASMR facciamo più la tinta insieme vi piaccia ok? buon aspetto aspetto massaggiando così entra in tutti i capelli massaggiando un po' per esempio la lapiccia dove prendere di più lunghezza ma ce li faccio dopo anche se comunque è sottopendo non troppo ok diciamo che una maschera però tutto non vuole è bello che come i suoni mi possano piacere un po' di la vostra come ASMR però visto che non avevo altri temi dovevo fare in teoria il video della barocchiera antipatica però insomma ho dovuto fare un video con i capelli brutti insomma perché qua c'ho un capello come questo pare per tutte le lunghezze prima che si secchi che si tratta di un po' di Grazie a tutti. sono molto sexy, lo so e lascio le capelline che sono andate a tutto 3 minuti dopo andiamo a pulirci sentite quando mi sottofondo sempre la ventola fatemi farsi i guanti quando mi metto dopo quando la sopraccina si possono fare anche senza guanti quando quando lascio con i capelli ovviamente sto per un video perché sennò non vedete molto quindi dovremmo evitare che mi occhio il telefono come ho fatto prima sto per un video ok, faccio le svolate ora lascio colore ok, faccio le svolate ora faccio i guanti ci vediamo ci vediamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.